Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La cantante Mina è finalmente tornata in tv, eccola dopo tanti anni Mina, il cui vero nome è Anna Maria Mazzini, ancora oggi è famosissima Il successo è cominciato negli anni 50 e durante la sua lunghissima carriera ha interpretato più di 1500 canzoni Insieme all'eterna rivale Milva, e Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Orietta Bertie rappresentava una delle più grandi voci femminili italiane degli anni 60 e 70 Durante la sua lunga carriera ha condiviso il palco con tantissimi artisti di fama mondiale, italiani e internazionali, da Frank Sinatra, Louis Armstrong, Laesa Minelli a Luciano Favarotti Circa 40 anni fa la cantante si è improvvisamente ritirata dalle scene I motivi di questa drastica decisione non sono mai stati del tutto chiariti, e l'ipotesi che va per la maggiore è che non le piacesse più il suo aspetto fisico Nonostante ciò, non ha mai smesso di cantare però, e i suoi brani continuano a riscuotere grande fortuna Mina, il ritorno ai riflettori dopo 40 anni.Ultimamente, inoltre, Mina è diventata molto popolare anche tra i giovani grazie l'amica geniale Si tratta della serie TV Rai tratta dall'omonima saga di romanzi della misteriosa scrittrice Elena Ferrante Da alcune settimane si è conclusa la terza stagione, durante la quale i protagonisti ascoltano più volte la canzone Nessuna, che l'artista aveva inciso nel 1943 Il brano è diventato popolarissimo su TikTok, diventando uno dei suoni più in trend dell'ultimo periodo e non è difficile ritrovarsi diversi video nei per te che lo riproducono Dopo il 1978 la tigre di Cremona non si è più fatta vedere in pubblico, tanto meno in televisione Da allora nessuno l'ha più vista, a parte in alcuni brevissimi momenti, ed è difficile immaginare a come può essere il suo aspetto oggi Tuttavia, recentemente è tornata in TV grazie al cantante mascherato La cantante non si è recata in studio, ma il programma ha voluto celebrarla in occasione del suo 82esimo compleanno, avvenuto il 25 marzo Come riporta BubinoBlog.it, Alba Parietti ha interpretato l'artista durante la semifinale dello show di Milli Carlucci Queste le sue parole a oggi è un altro giorno, questa sera una tragedia. L'omaggio a Mina al cantante mascherato lo faccio io Pensate che omaggio. Mina, voglio dirti una cosa, sei la cantante che in assoluto umanamente mi sembra più simile a me, nel senso della libertà, non nel talento ovviamente Ti chiedo perdono fin da ora, perdonami. Non è stata un'idea mia, giuro. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao